Benvenuti e benvenuti nel modulo 2, strumenti di condivisione e collaborazione, lavagne interattive multimediali e introduzione a Google Apps. Stasera avremo come ospite Davide Tognoli di Fidenia che risponderà alle nostre domande. Questo è il modulo 2 che vi faccio scorrere. Ci occuperemo di lavagne quindi multimediali, avremo delle zone di collaborazione, come vedete, e poi una lavagna online e una presentazione generale delle Google Apps. Avrete un Padlet in cui condividere, come vedete qui, le domande a Tognoli e poi avete un forum in cui interagire e il compito del modulo. Buon lavoro! A stasera! Grazie! Grazie!